Sembrava un centro massaggi. In realtà, nell'abitazione privata scoperta nel capologo Pentro, si nascondeva un vero e proprio giro di prostituzione. A finire nella rete dei carabinieri del nucleo investigativo di Isernia, i gestori dell'appartamento a luci rosse, nel quale alcune ragazze mettevano in vendita il proprio corpo. Le giovani, tutte di nazionalità cinese, si servivano di un sito online con tariffe tra i 50 e i 100 euro, a seconda della prestazione offerta. Un giro d'affari molto proficuo per il loro sfruttatore, che riusciva a guadagnare migliaia di euro al mese, essendo la casa molto frequentata da clienti provenienti da ogni comune della provincia. I militari hanno fatto irruzione nei locali, identificando una ragazza che in quel momento si trovava in attesa di un nuovo cliente. Nei confronti del gestore della casa, anche il di nazionalità cinese, è scattata una denuncia per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Guai anche per la giovane donna, con a carico altri precedenti, sempre in materia di prostituzione. Per lei è stata avanzata una proposta per l'applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno.